Ciao a tutti ragazzi e buona musica! Come molti di voi sapranno ormai da diversi anni collaboro con il maestro Alessio Menconi all'interno della sua academy online alessiomenconiguitarinstitute.com per quello che riguarda la preparazione e l'avviamento alla chitarra jazz. Proprio perché questa collaborazione dura ormai da diversi anni e c'è stima reciproca abbiamo deciso insieme di costruire dei corsi collaterali alla chitarra jazz per chi non volesse solamente studiare quello, volesse fare anche altro o comunque volesse avviarsi appunto alla chitarra jazz tenuti sia da me che da altri musicisti veramente bravissimi il corso che mi coinvolge è dedicato totalmente alla chitarra ritmica in tutti i suoi aspetti a 360 gradi e parte dalle basi fino ad arrivare a un livello medio alto oggi però vorrei parlarvi di questo concorso che abbiamo ideato insieme in collaborazione con il prestigioso marchio DV Mark che permetterà a tutti gli amici chitarristi che abbiano voglia di cimentarsi con l'esecuzione di alcuni semplici standard jazz che sono Blue Bossa, How Toon Leaves e Satin Doll di vincere dei prestigiosi premi per partecipare basta visitare il link che vi lascio qua in sovraimpressione o in descrizione a seconda del social scaricare le basi, scegliere uno dei tre standard registrare un giro di tema tu di assolo all'interno di un video dove suonate dal vivo naturalmente i video verranno caricati sul sito e la votazione verrà così effettuata tra tutti gli utenti appartenenti alla community chi riceverà più votazioni vincerà un premio che potrà essere un amplificatore DV Mark veramente di grande qualità un buono da 100 euro per l'acquisto di prodotti all'interno del sito Alessio Menconi Guitar Institute una tracolla DV Mark e 5 mute di corde secondo me è un'occasione veramente interessante non soltanto per i premi che si possono vincere ma anche perché chi sarà tra i primi classificati avrà il proprio video pubblicato nei social di Alessio Menconi e anche sul portale c'è tempo per registrare questo video fino al 31 di maggio a giugno avranno le votazioni e poi ci sarà la premiazione per ulteriori informazioni potete visitare il link www.alessiomenconiguitarinstitute.com slash concorso-mg oppure scrivere a info chiocciola alessiomenconiguitarinstitute.com vi aspetto a presto e buona musica ciao